Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ma non per gridare aiuto, e non viene mai sentito Mi sento tutto il mio segreto, e non so Rionderemo tutto Se sei vero, forse scegliamo Se mi diranno, sei finito, non ci devi chiamare Finché non funziona la campagna Guarda Finché non attivare Sono un g spento Forse se si estiv getto Chi deve farli Con tutto ci adresare Ma non si viva E a un sacco Abonne Il bao' Dio Grazie a tutti. Grazie.